Chiusura e apertura di sé, del cuore, delle comunità. Papa Francesco ha esortato a riflettere su questo binomio nella messa celebrata nella Basilica Vaticana in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli patroni di Roma, alla quale ha partecipato una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli. Bisogna riflettere anche sul simbolo delle chiavi, ha aggiunto il pontefice, che Gesù promette a Simone Pietro per aprire l'ingresso del Regno dei Cieli. Pietro ha proseguito, era chiuso in carcere, la comunità cristiana ha riparo dalle persecuzioni, ma in tutti i casi, ha aggiunto, è la preghiera, umile affidamento a Dio, a salvare perché via d'uscita dalle nostre chiusure personali e comunitarie. È un'apertura anche la liberazione di Paolo, apertura verso la vita eterna che arriva al termine della corsa terrena, una vita proiettata in avanti, prima a portare Cristo a chi non lo conosce e poi a buttarsi nelle sue braccia. È l'esperienza che apre, l'accogliere la grazia della fede che per Pietro vuol dire uscire da se stesso, dalle proprie sicurezze, dal suo io orgoglioso e pauroso. Esperienza possibile solo grazie alla preghiera di Gesù, al suo sguardo pieno di compassione anche di fronte al tradimento e al terrore vissuto dalla comunità cristiana. Ma la paura ci fa fermi, ci ferma sempre, ci chiude, ci chiude alle sorprese di Dio. Questo particolare ci parla della tentazione che sempre esiste per la Chiesa, quella di chiudersi in sé stessa di fronte ai pericoli. La preghiera permette alla grazia di aprire una via di uscita, dalla chiusura all'apertura, dalla paura al coraggio, dalla tristezza alla gioia. E possiamo aggiungere dalla divisione all'unità. Nel corso della Messa il Papa Benedetto Ipalli, simbolo del buon pastore, che saranno consegnati nella diocesi di appartenenza ai 25 nuovi arcivescovi metropoliti di tutti e cinque i continenti. All'Angelus il Pontefice ha ricordato Pietro, l'umile pescatore, e Paolo il maestro e dottore che suggellarono con il martirio la loro missione di fede e carità. Ancora oggi è evidenziato, bussano alla porta dei nostri cuori per renderci cristiani gioiosi, fedeli al Vangelo e aperti all'incontro con tutti.